Henry de Toulouse La Trek Biografia Henry de Toulouse La Trek è nato ad Albi, in Francia, nel 1864. Da piccolo si rompe entrambe le ginocchia e le gambe non gli cresceranno più, tanto che resterà fisicamente deforme. Appartiene ad una famiglia nobile e molto ricca, e sviluppa subito la passione per il disegno e l'arte, tanto che la famiglia gli permette di seguire una formazione artistica. Da grande Henry de Toulouse La Trek si traferisce a Parigi ma evita i salotti borghesi e, a causa del suo carattere e del nanismo, preferisce a vivere nel quartiere di Montmartre, dove frequenta il Moline Rouge, i bordelli, le case da gioco e i circhi, prendendo da questi luoghi i soggetti. Per i suoi dipinti e disegni Henry de Toulouse La Trek mora nel 1901, ad appena 37 anni Quiz sull'impressionismo Svolgi il test e scopri quanto ne sai sulla corrente artistica nata in Francia nella seconda metà dell'Ottocento Henry de Toulouse La Trek opere Henry de Toulouse La Trek fu un ottimo disegnatore ed è considerato uno dei grandi primi pubblicitari. Disegnò infatti manifesti e locandine per il Moline Rouge e per artisti del mondo dello spettacolo conosciuti grazie alla sua frequenza, del quartiere di Montmartre. Henry de Toulouse La Trek Opere Henry de Toulouse La Trek è cresciuto immerso nei movimenti artistici dell'impressionismo e del post-impressionismo dai quali si è allontanato per dar vita al suo peculiare realismo che lo porta a rappresentare ciò che esiste oltre le apparenze Inoltre, diversamente dagli impressionisti che erano più interessati allo studio e alla pittura e in plein air L'attenzione di Henry de Toulouse La Trek era rivolta alla rappresentazione degli eventi e dei frequentatori del quartiere di Montmartre Toulouse La Trek appunti e riassunti Il tuo prof di arte ha deciso di assegnarti un compito o una ricerca su Toulouse La Trek Stai cercando il riassunto sulla sua vita e le sue opere per scrivere una ricerca? Qui sotto puoi trovare tante risorse da leggere e scaricare gratis per fare i tuoi compiti Impressionismo, caratteristiche, esponenti e opere Toulouse La Trek Riassunto della vita e analisi di alcune opere Presentazione in PowerPoint su Henry de Toulouse La Trek Approfondimenti e analisi su Toulouse La Trek